Non prenderli in giro, perché queste qui non sono 400 euro, queste qui sono più di 1000 euro, non vedi quanti sono? Questa ragazzi è la situazione della mia scritta Raga qua, 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 in bagno, sotto, lì, raga assurdo Questa volta ho veramente esagerato e... Buona a tutti ragazzi, sono Rivo Aldigno e oggi ragazzuoli siamo tornati qua in un video leggendario, raga... Lasciatemi spiegare Raga, paparimmo impazzirà sicuramente, ma prima di tutto, che cos'è Temu? Sicuramente molti di voi ne hanno già sentito parlare perché appunto ultimamente è viralissimo Temu è un sito barra app per iOS o Android dove ragazzi si possono acquistare un'infinità di prodotti Ma a differenza degli altri siti barra app, ragazzi, sono una miriade di sconti e prezzi bassissimi Tra poco, raga, potrete vedere con i vostri occhi quanti prodotti ho acquistato con la cifra che ho messo nel titolo Raga, ho qui i pacchi, sono enormi Come se non bastasse, ragazzi, su Temu ora ci sono gli sconti estivi su tutto il sito E potete risparmiare fino a 90% Ma non è finita qui perché lo zio Rimo ha pensato anche a voi E tramite il link che vi lascio in descrizione e inserendo questo codice Potete ricevere ulteriori bonus e sconti fino a 100€ grazie al mio link e al codice Quindi ragazzi, cliccate questo link, scaricate Temu, raga, e divertetevi anche voi A comprare un botto di robe a pochissimo prezzo Ma detto ciò, ragazzi, non ci incischiamo Andiamo avanti nel video e vi faccio vedere che pacchi enormi ho qui Che tra l'altro mi hanno spedito super veloci Con le tempistiche che erano inserite nell'app, quindi top E raga, state tranquilli perché ci sono anche le politiche di rimborso e tutto Detto ciò, raga, guardate Questo pacco, ok, uno direbbe... Vabbè, dai, un pacchettino Rimo, ci sta Mi è arrivato anche questo pacco Ok, Rimo, sì, sono due pacchi Questo pacco Ok, e uno potrebbe dire Rimo, hai finito Rimo, mi sembrano alti come te Questo pacco Non ci sto più Non so se rende dal video quanto siano enormi Però ragazzi, sono enormi Aiuto Quindi direi di aspettare il papà Rimo stasera Ci vediamo dopo Insieme a lui, andare ad aprire e vedere tutto ciò che ho preso Raga, ho preso delle robe assurde Ok, raga, è passato un po' di tempo, è sera È arrivato a casa papà Rimo Adesso mi metto tutti i pacchi, uno sopra l'altro Qua sulle gambe Lo chiamo e vediamo la sua reazione Raga Vado a chiamare Papi Va Vieni un attimo in stanza Raga, se cade tutto è la fine Voglio farti le due robe che ho comprato Che è che compra? Ma cos'è tutta quella roba lì? Allora aspetta, sono due cosine che dobbiamo Mi viene voglia di vestirmi e uscire di casa Guarda, mi viene voglia di uscire di casa Guarda Vieni un attimo dentro, mi viene un attimo dentro per favore Perché? Ho comprato un bel po' di roba Saranno un'ottantina di oggetti qua dentro Ma cosa sono venuti con un camion umbilico a portare la roba? Sì, ti dico che la portinaglia aveva delle difficoltà nel... Ti avrei preso per le orecchie e te le faccio portare solo da te, non la portinaglia Sono quasi 400 euro di prodotti su... Ascolta, non prendermi in giro perché queste qui non sono 400 euro Queste qui è più di 1000 euro, non vedi quanti sono? No, perché sono prodotti di Temu Eh? Di Temu, un sito che ho già spiegato che cos'è a loro Che tipo ti fa... cioè ha i prezzi bassissimi Quindi in totale mi avevo preso un sacco di roba Ho capito Ma c'è... Dammi una mano C'è i prezzi bassissimi Devi comprare un container di roba Adesso dobbiamo andare ad aprirle una a una Chiara, guarda cosa c'è qua Ma aspetta, non ti ho detto però Sono anche tutte robe per te Un sacco di sorprese regali Anche per la casa No Lo sapevo Che roba per me Sono tipo 80-90 oggetti papà E non si sa che cosa sono No, io lo so ma tu no Adesso mi devo andare a aprire Ma no, le apriamole subito Ma guardale, un bambino ragazzi Dai, adesso li apriamo Va bene Partiamo dal primo Non lo so, chi se ne frega Partiamo da quando vuoi Basta aprire Ma c'è roba tecnologica Sì Cosa? Eh, non posso dire Raga, è pieno di roba tecnologica No Partiamo per primo Partiamo dal più piccolo E prendendo verso lì Dai Allora, non lo so da quale No, anzi partiamo da No, partiamo da questo Partiamo Che è uno dei più grandi Aspetta che mi siedo perché qua diventa lungo Stiamo qua fino a stanotte Qua c'è tanta piccola roba Allora, la cosa bella è che papà Tutti questi prodotti L'ho già detto anche loro Gli ho pagati in realtà pochissimi Cioè, 400 euro lo so Sono tanti Ma ogni prodotto L'ho pagato pochissimo Perché Temu È pieno di sconti Questo sito qua Dopo dovrei infatti provare Alcuni prodotti di questi Ti dico il prezzo Dovrei provare a indovinare Quanto costano E quanto in realtà poi li ho pagati Vabbè, dai Però io uscirà Direi ragazzi Primo pacco di quattro Dovremmo andare abbastanza spediti papà Tagliamo e vediamo Cosa c'è Allora, li ho ordinati Un po' di tempo fa Quindi non mi ricordo sinceramente Neanch'io cosa ho ordinato Aspetta Questi sono bellissimi Allora Questi qua Questo te lo leghi così E tu questo lo usi Quando devi avvitare le cose Intanto però, guarda Così quando avviti Ma io lo voglio nel mio ufficio Me lo metto io Perché quando Questo è figo Vedi, raga Io adesso faccio finta Di avere un cacciavite in mano Intanto mi faccio luce No, io lo porto Ah, per il... Guarda che bello, raga Tu lo voglio io Oh, ho capito Che cos'è Come fai a capire tu Le ho ordinate ma mi ricordo Allora Le ho ordinate di 600 Questo papàrimo Servirà anche a te o a me Che la voglia usare Per andare a letto È una benda notturna Che te la metti sugli occhi Ti corichi con questa Ti suppini con questa qua Te la metti così? Sì? Ma la cosa È Che questa papà È Ha qua Un'uscita audio Ah, che bello Mettiamo su una bella canzoncina Piri, 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 piri Bella, bella Ecco, secondo te È una fascia così per dormire Papàrimo Con Tutto l'MP3 Tutto Quanto la posso aver pagata? Un... 20 euro 10 euro 9,90 Un nulla Niente, io pensavo a 20 Andiamo avanti ragazzi Ogni tot proverò a far indovinare A papàrimo il prezzo In cui ho pagato gli oggetti Andiamo avanti No, raga Questa è bellissima Questo lo uso già da dopo Papà Eh No, questo è il sogno della mia vita Cos'è che è? Questo Ma non buttare tutto per terra Che poi lo mettiamo via È il nuovo papà Eh Condizionatore Barra ventilatore A collo Come? Questo Quel caldo che fai sti giorni qui Devo andare in ufficio Con questa roba Te lo prendi Te lo metti così È bello Però andare in giro No Fatti così Lo accendi Sì E inizia a spararti il vento Prova a accendere Non mi ha mettere il pilos Ci sono già No Oh Questo è bellissimo Ma senti Ragazzi esce tutta l'aria Ma questo Meno male che sono arrivati adesso Qua a Milano ci sono 45 gradi Fai vedere Che bello Raga è geniale È geniale Quanto l'ho pagato sto ventilatore Secondo te papàrimo? Allora almeno gli hai lasciato lì 35 euro 8 euro Ragazzi Ma ne compri 4 così Questa è una roba che piace a te Cuffiette wireless futuristiche queste raga Mamma mia Allora Oh mio dio Guarda Ne metti una qua E una qua Sì Wuhu Oddio raga guardate che roba Ma è bellissimo 79 ti dice la percentuale della scatola Ora ragazzi proviamo a mettere Che canzoni metterò mai 393 su Spotify ragazzi Andatelo ad ascoltare Che la state spaccando 30 e mezzo milioni in un mese Dai vai vai 393 393 Quanto le ho pagate queste? Allora facendo una proporzione che un Airpods costa 100 e passa euro Queste qui almeno 40 euro gli hai dato Guarda me le ho rimesse dentro 40 euro 7 euro Fai subito un ordine di 10 di queste qua Questa è una cassa bluetooth Impermeabile Da mettere in doccia Con la ventosa Facciamo finta di essere in doccia? Oh raga Gusti Oh ma pari Cos'è che è? È il sogno di una vita Cos'è? È il sogno di una vita Ma cos'è che è il sogno di una vita? Il sogno di una vita è che te ne vai via una settimana Ragazzi avete già capito voi secondo me L'avete già vista anche voi Questa è la pistola per i massaggi Quella che ti fa tutto Allora qui c'è la cervicale che mi sta Ma cos'è quel robo lì? Non è che mi spara qualcosa? Proviamolo sulla schiena di papà rimo ragazzi Proviamo sulla schiena Oh che bella essa Vai sopra Vai sopra Vai nel cervicale Oh che bella essa Oh come sto bene Questa pistola La pistola per i massaggi Quanto l'ho pagata secondo te? Questa a meno 50 euro gliele lasciate lì Sì 50 20 euro Nooo Questa raga è Allora un prodotto così Un prodotto così almeno vale più di 50 euro ragazzi Invece no Mobile phone Eccolo quello che mi usa Telescopio Questo lo uso io L'ho preso apposta per vedere se funziona veramente o no Guardate ragazzi C'ho il binocolo Clamoroso raga Questo è un regalo per te È una roba che ti piacerà a te Cos'è che è? Questo papà è il clone Dell'Apple Watch Nooo Attenzione raga No raga Ma che finesse No raga è identico raga Bellissimo Anche il bordo di qua Bellissimo Raga ma che state a Dio è uguale Ok ragazzi l'ho messo un attimo in carica Noi andiamo avanti E poi lo vedete da acceso Secondo te Babarimo non te l'ho detto prima L'Apple Watch Quanto l'ho pagato? Quello lì è praticamente realistico 43 euro Oddio si è anche acceso Ma è l'Apple Watch Raga ma è anche fluidissimo E anche Quanto l'hai pagato? Quanto l'ho pagato? Di la verità L'Apple Watch Giuro 42 euro 15 Nooo 15 euro ragazzi Adesso qua se lo tieni te ne ordino un altro io 15 euro Cos'è che è questa? Questa sarà una roba elettronica no? Ho capito Questo è bellissimo papà Questo ci salverà la vita la prossima estate ormai No vabbè anche questo Ma no che bello che è Raga Stanno Raga ma che è Cambiare Stessa spiaggia Ma che poi è l'effetto del tipo che riflette il Il problema è che se lo tieni su un'ora ti si ferma tutta la circolazione sanguina Non è vero? Stringi? Un pochettino sì Vabbè Però diciamo che ti ravi Meglio che stringi Vai in coma è reversibile Però ti tiri via il sole Quello sì vabbè Meglio questo che Che bruciarsi la cavessa Esatto Oddio questo è bellissimo Questo mi sa che ci farà un video dedicato ragazzi Eh cos'è che è? Questo paparimo è un endoscopio Con questo ragazzi lo si collega Sì ok Alla usb Poi esatto sì E con questo qua possiamo andare a guardare dentro i tubi del cesso Non fanno un endoscopio per vedere il tuo cervello Questo mi sa raga che ci farà un video io da solo dedicato Questo è bellissimo qua Questa praticamente sono delle cicche Che tu se le mastichi Quelle le conosco Le mastichi Si mastica del tuo cervello Cosa vuol dire le conosci? Quelle le conosco Sono per gli scherzi di carnevale Lascialo stare Tira il prova a tirare No perché mi fa male Facciamo il contatto No no Tira Tira Se sei un uomo tiri Cosa devo fare? Devi tirare Ma dà la scossa Eh sì ma anche E me è forte Eh sì che è forte Non riesco neanche più a muovere il dito Avevi già fatto un video di Spider-Man Se volete andare a rivedervi Se volete la parte 2 Facciamolo ora che ho le ragnatele Va la che guantino Dammi l'arto Dammi l'arto che te lo monto Dammi l'arto qua No sopra il guanto Non devi tirare sto affare qua no Va a vedere Ma non è che non me l'hai tirato nell'occhio Eh Funziona benissimo Eh poi c'è anche la ragnatele Ho sfondato il monitor però C'è anche la ragnatela dentro Che i bambini che si divertono Lui è piccolino Lui deve giocare con tutte ste robe qua Ma non hai no Questo è il mouse Quello raga Quello tipo che aveva buga Però in versione Super leggera E in versione cinese Vabbè però è bello Questo qua almeno Merda raga è clamoroso Questo è clamoroso Raga guardate che bello è Adesso c'è anche i led Vediamo se si accende on Bellissimo Raga guardate com'è tutto il RGB Guarda com'è funziona No papà Questo l'avrò pagato 10 euro 20 massimo Questo hai fatto l'affare Ragazzi Ragazzi anche queste Le Tinko Plus Vediamo Tinko Plus Queste sono della Lenovo Ragazzi sono della Lenovo queste Queste sono pesanti Ma la qualità Lenovo Davvero Non lo metti Non lo metti Non lo metti Non ho mai sentito una roba così Ragazzi Vai Vai suonare Queste quanto le ho pagate Questa è quanto le ho pagate Queste le ho pagate 13 euro 13 euro Ragazzi Suonano ve lo giuro correte tutti a prendere Chiunque queste suonano da raga da 100 euro Io una roba così non l'ho mai sentita ragazzi E non lo dico perché è un video sponsorizzato raga Questa è addirittura la sirena Che ti avvisa che la colleghi Con la usb E questa la metti dove Fuori dal Ha già detto qualcosa pronto Chi c'è fuori dalla porta fa sentire che risponde E' schiacciato qualcosa E' il campanello ok aspetta facciamo un testo veloce Oh lo vedo già qua Vista record Ok tu hai suonato facciamo finta che si è suonato il campanello Oddio mi è arrivata una telefonata Eh si che è Posso rispondere C'è la mia faccia guarda Pa Vai a letto Vai a letto Coricati Vai a letto Supinati Ho pagato 17 euro ti rendi conto Ragazzi il terzo pacco Allora andiamo Ma la devo mettere Ma questo non è uno stabilimento E' una casa E' una casa dove devo vivere Non con tutti sti pacchetti Questo papà rimo Raga voi lo vedete così potrebbe essere confusionario E' la cosa più bella che serve per la tua macchina Questo lo infili dietro nel coso del passeggero E puoi guardarti film appoggiato così qua metti il telefono E tu questo qua lo metti nel Come si chiama L'appoggia testa Qua dentro passa il tubicino E poi ti guardi il video Ho visto una cosa ma non posso tirarla fuori adesso Tu devi chiedere gli occhi Ok rimani giù così eh Così? Non guardare Perché mi servirà per un video mi sa Niente papà rimo Lo metto un attimo qua dietro A posto andiamo avanti Questo bellissimo Questo qua E' il mio nuovo portafoglio Lo userò come nuovo portafoglio Questo papà rimo dovrebbe essere tipo un fischietto Che fa un bordello immaginabile Prova a fischiare Rigore Questo è l'acquisto della nostra nuova casa papà Questo è l'acquisto proprio del bagno Questo è il Cosa che metti sotto il lavandino E dovrebbe far uscire l'acqua colorata Andiamo in bagno Allora papà rimo fermo un attimo Raga l'abbiamo messo su E' questo qua Speriamo di averla avvitato bene Adesso parte il getto d'acqua Lascia a te Non lo so Prova la first direction Apri Oh mio dio Certo ma mi sa che può anche cambiare colore Mettiamo l'acqua calda No non cambia Però raga Oddio ha cambiato RGB pure No questo rimane su Fermo chiudi qua l'acqua Questo è già nostro Ma poi raga l'acqua come esce bene Tipo divisa in Papà dimmi che non è l'acquisto della vita Bellissimo Approvato Ok raga procediamo Raga roba Bellissimo Ma questo papà rimo Dovrebbe semplificare la vita Praticamente non ti sporchi più le mani mangiando un panino Perché questo tu metti il panino qua dentro e lo tieni con le dita così Ah bello Quando lo porti in ufficio che mi mangio il panino Quando ordino il mac ragazzi non mi sporcherò più le mani perché c'è lui che vedi tengo il panino così Bellissimo Geniale Anche questo ragazzi siamo nella sezione gadget utili che ti salvano la vita Questo ragazzi per me che non so mangiare il gelato è la risposta a ogni mio problema Tu inserisci qui la stecca del tuo gelato Bello E non cola E poi non è finita perché se il gelato rimane tutto sotto te lo puoi anche bere da qua papà rimo Ragazzi L'amoroso Demo ci pensa tutto Ma conta i soldi Questo è il salvadanaio che ogni moneta che inserisci ti conta dentro i soldi Giri qua Salvadanaietto così E puoi anche ogni volta che metti e togliere la moneta dire quanto togli e quanto metti manualmente Così Poi abbiamo papà rimo Un gadget devastante Quale che è? Ovvero Boom Questo ragazzi è un pezzo di plastica da attaccare dentro la doccia Sì E raga c'è la cosa bella che appunto è impermeabile non entra acqua E questo direi che lo vado poi subito ad attaccare alla parete del bagno Anche questa raga Cioè ditemi se non sono un genio Questa qua ragazzi Penso sia una figata clamorosa Illumina il tuo water Andiamo subito a provarlo papà rimo Papà rimo mo spegni questa luce qua Del corridoio ok È notte Stai andando in bagno Vai in bagno per farla pipì Tu stai Ti stai avvicinando verso il bagno Ok mo è tempo di tirarti giù No Oh mio dio Papà è clamoroso sì Brunotte Ma raga non so se rende dal video ma è veramente luminosissimo Ma se faccio la pipì gialla diventa gialla Non penso funzioni così papà rimo Però che figata guarda bianco E poi se io accendo la luce guarda Oh lui capisce che c'è la luce e si spegne Assurda Andiamo avanti Questo papà è clamoroso Questo ragazzi è piccolissimo ma ti cambia la vita secondo me papà rimo Quante volte tu bevi la coca cola e il lattina raga e poi cosa fai la lattina come la chiudi Eh niente Niente la bevanda che hai si sgasa Metti sopra questa qua Voilà Giri bene E poi ragazzi ti puoi bere la tua lattina così Bello Andiamo avanti Poi abbiamo questo qua papà sì Tipo è tipo una salsa Eh come si fa Sì che tu la praticamente la prendi Eh Ma poi Ma che spavimento Stupido Era per fare uno scherzo Te l'ho già fatto adesso È già funzionato Anche in un video unboxing Scherzo papà rimo Andiamo avanti Poi ragazzi abbiamo questo Questo papà rimo È il gadget più bello che io potessi mai ricevere Non ce l'ho attacchi sulle orecchie Perché per me è un problema questa cosa Io raga mi piace andare a letto E dormire Guardandomi le live o i video di qualcuno E questo ragazzi ti semplifica la vita E tu da sdraiato Sì E dico da sdraiato Puoi guardarti le live e i video Senza stare lì con la mano A tenerti il telefono così Qua prendo l'iPhone Lo metto così E mi posso guardare i video da sdraiato Questo papà rimo è per la tua bmw Mi sa che ci faremo O una storia su insta Per vedere come funziona Perché non lo possiamo fare nel video O un tiktok Quindi seguitemi sia su insta o su tiktok E arriviamo così ragazzi Al quarto pacco È come aver fatto il giro della Lombardia Ho esagerato Quanta roba Quanta roba è Non so se Raga aspetta Devo fare una ripresa Cosa c'è qua davanti a noi Perché fa veramente ridere Questa ragazzi è la situazione Della mia scritta Ma tu non sei normale Ma guarda Guarda cosa c'è qua Raga qua C'è roba Qua 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 In bagno Sotto Lì Raga assurdo Andiamo avanti Questo qua è bello grande come pacco E se mi ricordo bene So già cosa potrebbe esserci Perché all'appello Mancavano delle cose che volevo Ok raga Questo è l'ultimo pacco È il pezzo forte Allora partiamo Secondo me sono robe belle belle caggiose qua A parte che è bello il pack In così Negli altri non c'erano Ma in questi clamorosi Va che bello Bello così cattivo Solo per te l'hai preso Andiamo avanti Con il secondo Questo è bello grosso Cos'è sta roba Non me lo ricordo Cos'ho ordinato Questa raga è bellissima Metti tutti i caricatori Da un lato Dalla parte qua Vedete le sacchettine Bellissimo Questo è il pack più tech Della giornata mi sa Cos'è che Perché abbiamo Eh questo è bello ragazzi Abbiamo ragazzi una tastiera Eh Una fottutissima tastiera Bellissima Bellissima raga Sono quelle piccolissime Compatti Cioè guardate una mia mano È quasi grossa quanto tutta la tastiera Era proprio come quelle che volevo Andiamo se va Sentite lo switch Ma sei tutto tecnologico Mamma mia Che bella Poi Base Di ricarica per Apple Watch iPhone E Cuffiette 10 euro Vabbè Cioè raga io ho preso tutta questa roba Che avete visto in tutto questo video Con neanche 400 euro Cioè raga Voi con 200 euro Prendete La metà della roba che ho preso io È già tantissima Cioè io ho veramente esagerato Quindi ragazzi Io ringrazio ancora Temu Per questi prodotti Che papà rivo ringrazia Temu eh Esatto Raga vi invito A scaricare Temu Andare sul loro sito Vi lascio il mio link in descrizione Con questo codice Oppure avete uno sconto Ragazzi di 100 euro Fino ai 100 euro di bonus Ragazzi mi raccomando Fatelo E noi ci vediamo In un prossimo video Andate tutti a scaricare l'app di Temu Avete visto ragazzi È tutto arrivato Non c'è nulla di Se vi consiglio le cose Perché sono molto belle E la qualità è molto alta ragazzi Andate su Temu E divertitevi come ho fatto io Mi raccomando Scaricate l'app Ciao